Musica Il presidente Antonio Iannone su aeroporto di Salerno, bene il via libera del Consiglio di Stato per la privatizzazione dello scalo. Scario, meta turistica di rilevo del Golfo di Policastro, parla il sindaco di San Giovanni Apiro, Maria Stella Gianni. Al via il festival lirico salernitano nel paesaggio incantato della necropoli di Fratte. Ben ritrovati dal Tg di informazione salernitana.it, la web tv della provincia di Salerno. In apertura l'intervista del presidente Antonio Iannone che ha commentato il via libera del Consiglio di Stato per il processo di privatizzazione dell'aeroporto di Salerno. Una scommessa della provincia che ha puntato su questa realizzazione strategica, dice. E ancora il presidente ha parlato della discarica di parapoti che a breve vedrà la messa in sicurezza definitiva grazie a un finanziamento della regione Campania. Infine il presidente ha formulato gli auguri al neoretore dell'Università degli Studi di Salerno, il professor Aurelio Tommasetti. Marina Santoriello. Aeroporto di Salerno arriva il via libera dal Consiglio di Stato per la privatizzazione. Sì, il Consiglio di Stato ha colto il ricorso contro la sospensiva che era stata emanata dal TAR e quindi continua, così come era stato immaginato, proposto e realizzato, il processo di privatizzazione dello scalo aeroportuale Salerno-Costa da Malfi. Questo ha conferma della bontà delle procedure e del percorso che è stato messo in campo. L'amministrazione provinciale ha scommesso su questa realizzazione strategica perché si tratta di una infrastruttura fondamentale che realmente può cambiare le sorti del territorio. In questi 48 mesi di amministrazione è stato svolto un lavoro enorme perché nei precedenti dieci anni si è soltanto parlato, polemizzato, litigato tra istituzioni. Quando è intervenuta la nuova governance voluta dalla Camera di Commercio e dalla provincia di Salerno ci siamo ritrovati all'anno zero, anzi dico io sotto zero perché la struttura era stata abbondantemente screditata da polemiche che avevano assunto anche l'onore della cronaca nazionale. In 48 mesi sono state svolte tutte le autorizzazioni che erano assolutamente mancanti. Ora è chiaro che attraverso la gara bisogna dare una governance e un management privato che dia l'effettiva possibilità allo scalo di partire. Gli enti hanno fatto in pieno la loro parte, il proprio dovere. Oggi si tratta di consegnare al territorio questa infrastruttura strategica. Di scarica di parapoti la Regione Campania finanzierà la messa in sicurezza definitiva? Questo si tratta di un altro importantissimo risultato per il territorio dopo gli scempi del passato e il gravissimo disastro ambientale che è stato causato al territorio dalle scelte politiche del centro-sinistra. Finalmente con questo finanziamento sulla base di un progetto che è stato predisposto dall'amministrazione provinciale di Salerno potremo passare alla bonifica definitiva della discarica di parapoti. Un risultato importante per la sicurezza e per la salute dei nostri cittadini. Fondo Valle Calore, nei giorni scorsi un incontro ad Acquara con le istituzioni locali per riavviare l'opera? Sì, anche a questo proposito abbiamo avuto un'importante affermazione con il riconoscimento da parte del Tar della Ragione all'amministrazione provinciale rispetto all'atteggiamento della sovrintendenza che ha bloccato l'opera. Naturalmente noi adesso ci attendiamo un via libera definitivo. Speriamo che la sovrintendenza e il Ministero non voglia ricorrere al Consiglio di Stato perché questo significherebbe perdere ulteriore tempo e si tratta anche in questo caso di un'opera di cui il territorio ha profondamente bisogno. Mi ha fatto molto piacere condividere con i sindaci e le comunità montane dei territori interessati principalmente una strategia con la quale noi chiederemo in piena sintonia istituzionale che i lavori possano partire perché questo significa non solo dare una infrastruttura fondamentale a quel territorio ma anche rilanciare l'occupazione. Ricordo che l'impresa è stata costretta a mettere in cassa integrazione i propri dipendenti per queste lungaggini purtroppo questa è l'Italia. I tempi per la realizzazione di un'opera pubblica sono lunghissimi contribuiscono in maniera determinante anche i tempi della giustizia amministrativa ma credo che è un atteggiamento questo che noi non possiamo più consentirci non si possono più sopportare i talebani del vincolo. Noi abbiamo bisogno soprattutto in questo momento di crisi e di difficoltà di mandare avanti i nostri cantieri. Sanità in provincia di Salerno si discute molto in questi giorni della riconversione dell'ospedale di Agropoli. Ma io sono assolutamente contrario alle sterili polemiche ho sentito letto di conferenze stamp che incredibilmente vengono svolte da coloro che sono gli autori politici del disastro del passato non serve assolutamente a nulla attaccare il manager squillante che è un esecutore bisognerebbe piuttosto fare un'azione e mi rivolgo soprattutto a coloro che fanno parte di forze politiche che sono al governo nazionale affinché vengano dati dei parametri più blandi alla regione Campania al presidente Caldoro quale commissario per la sanità affinché si possa rivedere il decreto 49 che viene emesso dalla regione Campania ma deve essere naturalmente coerente con quelli che sono i parametri del piano di rientro finanziario che viene dato alle regioni. Quando si parla di tagli non ne parliamo per uno sfizio o per costituire un alibi è perché quando si hanno dei parametri troppo stringenti poi c'è una caduta di servizio per i cittadini. Poi nel caso dell'ospedale di Agropoli veramente mi sembra paradossale perché chi polemizza ignora che già Bassolino aveva voluto una legge la legge regionale numero 16 che chiudeva Agropoli. Io credo che bisogna aprire complessivamente una vertenza del territorio affinché il governo nazionale abbia attenzione nei confronti delle nostre zone che non possono vedersi penalizzate per colpa dei disastri finanziari e gestionali del passato. Università degli Studi di Salerno il professore Aurelio Tommasetti è il nuovo rettore. Faccio i miei complimenti e i miei auguri al professore Aurelio Tommasetti che si è affermato nella elezione per il nuovo rettore. Sono convinto che continuerà un lavoro importante di sviluppo del nostro campus che rappresenta un'eccellenza del nostro territorio ed un riferimento di carattere culturale per il mondo dei saperi importantissimo per l'intera Italia meridionale. credo che abbiamo tante capacità e tante professionalità che possono portare avanti la grande tradizione che ha Salerno voglio ricordare la scuola medica salernitana e completare un progetto di organizzazione della nostra università che veramente rilanci questo territorio che ovviamente non ha nulla da invidiare a tutti gli altri e che sta compiendo degli enormi passi in avanti. Il professore Tommasetti è persona già di grande esperienza nonché sia anche molto giovane dal punto di vista anagrafico e io sono sicuro che saprà insieme a tutte le altre componenti universitarie portare avanti un ottimo lavoro. È stato presentato nel Salone Bottiglieri di Palazzo Sant'Agostino Campania a terra di veleni il libro degli scienziati e ricercatori Antonio Giordano e Giulio Tarro una riflessione sulla situazione ambientale della Campania in cui ci si ammala di tumore con un tasso più elevato di qualsiasi altra regione d'Italia a causa dello sversamento illecito di rifiuti in prossimità di centri abitati. Un'emergenza hanno spiegato gli autori che interessa l'intero territorio campano dal salernitano al napoletano fino al casertano e che inizia a coinvolgere anche le zone del Sannio e del Cilento. Il teatro di figura sbarca in provincia di Salerno e lo fa con il Costa d'Amalfi Puppets Festival. La Kermess, patrocinata dall'amministrazione provinciale di Salerno dall'EPT di Salerno e dalla Camera di Commercio e organizzata dalla Compagnia degli Sbuffi animerà le piazze di dieci comuni della Divina Costiera fino a settembre. Un'iniziativa che si presenta come un benefico auspicio. Chissà se almeno per i mesi estivi si possa vivere felici e contenti. Alla presenza del comandante del secondo comando delle forze di difesa e del generale di corpo d'armata Vincenzo Lops si è svolta la caserma a Capone di Persano la cerimonia di cambio di denominazione del 131esimo reggimento carri e del trasferimento dello stendardo del quarto reggimento carri dalla sede di Belinzago Novarese a quella di Persano. L'acquisizione nasce dall'esigenza di salvaguardare le tradizioni di uno dei più gloriosi reparti della specialità carrista che vanta una medaglia d'oro e due di bronzo al valore militare. Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri il comandante della brigata Bersaglieri Garibaldi generale di brigata Maurizio Angelo Scardino l'onorevole Edmondo Cirielli ed i consiglieri provinciali Massimo Cariello e Domenico Di Giorgio sindaco di Monte Corvino Pugliano. Salute! 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 A quest'anno si è festeggiata Salerno in ossequio alla tradizione Maria Vergine del Carmelo, protettrice dei muratori che il quartiere Carmine, il più antico della città, onora ogni 16 luglio. La lunga processione organizzata dall'antica confraternita salernitana ha animato le strade del popoloso Rione Carmine fino alla chiesa, una delle più note di Salerno in piazza Bolognini, che al suo interno custodisce la statua della Madonna accompagnata da una pioggia di coriandoli. Tra folclore e fede, i salernitani hanno applaudito la statua mariana adagiata su un trono di rose rosse a forma di cuore creato dai maestri fiorai a simboleggiare il grande cuore di Maria e partecipato ancora una volta con entusiasmo al rituale della danza dei portatori. Il viaggio tra i comuni del Salernitano questa settimana ci conduce al porto di Scario dove abbiamo incontrato il sindaco di San Giovanni Apiro, Maria Stella Gianni, che ci ha presentato le famose maioliche del maestro José Ortega Bosco. Informazione Salernitana Bosco, frazione di San Giovanni Apiro, nella piazza José Ortega. Questa è l'abitazione dove è abitato il famosissimo artista spagnolo che qui si è trasferito per vent'anni e ha lasciato un patrimonio di opere inestimabili. Siamo a Scario, frazione balneare di San Giovanni Apiro in compagnia del sindaco Maria Stella Gianni. Un porto d'eccellenza questo di Scario che è anche stato per tanti anni nel jet set internazionale per presenze di vari artisti, nonché di uomini dello spettacolo. Sì, direi proprio di sì. In questi ultimi anni è stato oggetto di lavori, di completamento, ma soprattutto di ampliamento. Oggi vantiamo circa 400 posti barca, soprattutto barche dati porto e dice bene perché è stato frequentato ed è stato frequentato e lo è tuttora da personalità molto importanti sia dello spettacolo che della politica, ma anche calciatori. Infatti spesso troviamo folle di gente che si avvicinano al molo di soprafflutto per salutare queste persone famose che quotidianamente si affacciano su questo porto. Ma soprattutto sindaco, i tanti turisti in visita a Scario si recano su questo porto per imbarcarsi su questi barconi e raggiungere le quattro meravigliose spiaggette? Beh, direi proprio di sì. Questo porto è particolare sia per bellezza perché si affaccia direttamente sul lungomare di Scario quindi chi porta la barca, il turista che porta la barca, lascia e si trova immediatamente nel centro storico proprio di Scario. Ma poi qua c'è anche un servizio di trasporto passeggeri perché in realtà le spiagge più belle di Scario che vanno dal porto verso Marina di Camerota sono spiagge raggiungibili solo via mare. Diciamoci la verità, sono spiagge uniche, io dico eccezionalmente belle perché sembra che siano rimaste primitive così come la natura le ha create a suo tempo. Oggi abbiamo recuperato anche dei sentieri naturalistici proprio per consentire a chi non ama solo fare il bagno, cioè al turista tipicamente balneare ma a chi ama fare del turismo naturalistico. Abbiamo recuperato dei sentieri che dal capoluogo San Giovanni Appiro giungono direttamente al mare e poi ci si può accordare con gli operatori del porto per poi rientrare qui a Scario in maniera più agevole e non camminando. Sindaco, in questo momento lei sta dando spazio al binomio turismo rispetto dell'ambiente anche con un'opera eccezionale per questo posto e quindi mi riferisco all'opera del depuratore che a breve andrà in funzione. Per fortuna dopo tempo finalmente anche Scario avrà il suo depuratore infatti c'è un progetto finanziato dalla regione Campania, siamo già alla fase esecutiva insieme al comune di Santa Marina e di Rocca Gloriosa e entro fine anno dovrà andare in appalto quindi finalmente Scario avrà il suo depuratore e finalmente potremo ambire anche noi alla bandiera blu che ci manca, è qualcosa che ci manca ma ci manca non perché le acque non siano cristalline non siano pure ma tutti sanno che per poter candidarsi è necessario avere il depuratore. Noi in ogni caso le nostre acque sono trasparenti, sono pulite tanto è vero che ogni anno vengono premiate da lega ambiente con quattro vele o tre vele. Sindaco, ma anche la cultura è importante, lei prima faceva riferimento a questi siti di eccellenza abbiamo in questo territorio un museo dedicato a un famosissimo pittore spagnolo José Ortega che oramai è conosciuto in tutto il mondo. Io sono convinta che lo sviluppo di un territorio non può prescindere dalla valorizzazione di quelle che sono le risorse umane e materiali che quel territorio possiede. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere una grande risorsa umana che è l'opera di José Ortega. José Ortega, per chi non lo conoscesse, anche se credo che ormai saranno in pochissimi, è un famoso pittore spagnolo, allievo di Picasso, che è stato un antifranchista, quindi è stato in carcere e poi è stato torturato ed esiliato e ha scelto di vivere per 20 anni proprio qui a San Giovanni Appiro, ma in particolare alla frazione Bosco, dove acquistò casa e la restaurò. Questo restauro durò tantissimi anni e oggi è possibile visitarla ed è, possiamo dire, il vero museo, ma a fianco a questo noi abbiamo aperto un vero museo insieme al parco in un vecchio palazzo dell'Ottocento. Lui ha lasciato un patrimonio di valore inestimabile proprio a Bosco. C'è una maiolica che ricorda i moti del 1828, perché ricordiamo che proprio a Bosco partirono i moti cilentani contro il regime borbonico e proprio probabilmente è forse la storia un po' che ha accomunato José Ortega ai boschesi, questo ribellarsi, lottare contro il regime, per ottenere la libertà e la democrazia. Sindaco, in quest'estate cosa c'è in programma a San Giovanni Appiro e quindi in questa bellissima frazione di Scario? Allora, qui a Scario ci sono vari piccoli eventi quasi tutte le sere, ma l'evento più importante sarà l'8 di agosto, perché ci sarà il Gran Galà della Lirica che è ormai giunto quasi alla ventesima edizione. Ma noi a Scario poi abbiamo una manifestazione che si tiene ormai dal 2006 che si chiama Equinozio d'Autunno ed è una manifestazione culturale che appunto si incentra sulla cultura mediterranea e c'è un premio in questa rassegna che è fatta di eventi culturali e di spettacolo che si tiene nei primi dieci giorni di settembre, anche quest'anno si terrà dal primo all'8 settembre. in questa viene promossa sì la figura di Ortega, ma ci saranno proprio una serie di spettacoli che teniamo a settembre proprio per cercare di destagionalizzare, di allungare un po' l'estate. E siamo alla rubrica Intramania, Luisa Tornitore ci presenta il Festival Lirico Salernitano in programma fino a settembre nella Necropoli di Fratte. L'area archeologica di Fratte vivrà una lunga estate all'insegna della cultura e dello spettacolo, il cartellone del Festival Lirico Salernitano 2013 in programma da luglio a settembre nella Necropoli Etrusco-Sannita e riccao di appuntamenti dedicati ai melomani ma anche ai meno appassionati del genere. In scena opere come La Traviata, Cavalleria Rusticana, spettacoli come Viva Verdi e Puccini e le sue donne. Non solo musica, declinata in diversi generi, dalla lirica alla musica da camera al jazz, con la presenza del maestro Irio De Paola, ma anche teatro classico con i Menecmi di Plauto e la Lisistrata di Aristofane. E a settembre è largo ai più piccoli, con favole e spettacoli di animazione. Ed era il nostro ultimo servizio, la redazione di informazione salernitana.it vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.